Per il quinto lunedì consecutivo il deputato indipendente Akos Adhasi lavora nel giardino di una scuola professionale a Sexard in Ungheria. Su sua richiesta la multa di 100.000 fiorini, circa 300 euro inflittali, è stata commutata in ore di lavori socialmente utili. A dire la verità speravo di poter andare negli ospedali e dare una mano, dice. Ci sarebbe stato bisogno di me durante la pandemia e la dice lunga il fatto che il governo non abbia nemmeno pensato di lasciarmi aiutare in modo significativo. L'anno scorso Adhasi insieme ad altri ha organizzato una serie di proteste contro la cattiva gestione della pandemia da parte del governo ungherese e il modo in cui si è preso altri poteri limitando una serie di diritti fondamentali, compresa la libertà di riunirsi. La polizia aveva imposto pesanti multe ai partecipanti, ma il tribunale ha deciso di ridurle. Ho scelto di lavorare qui per 38 giorni per evidenziare tre cose. La prima è che il premier ungherese ha molta paura delle proteste. La seconda è che una sola persona non può ottenere risultati, ma molte sì. La terza è che siamo già sulla strada che dalla democrazia va verso la dittatura, dove le leggi corrotte devono essere infrante. Mentre l'opposizione ungherese si prepara alle prime elezioni in dieci anni, grazie alle quali potrebbe finire il governo, il dibattito verte sulle leggi promosse da Viktor Orban, che considerano illegittime. L'opposizione al governo Orban ha dovuto pagare pesanti multe per anni e Akos Adhazi crede che facendo lavori socialmente utili si evidenzia l'illegittimità del sistema. Ma la domanda è, chi vince quando un deputato dell'opposizione e veterinario passa le sue giornate a fare il giardiniere?